Sono arrivati ancora una volta da tutta Italia anche il giorno di Pasqua per ammirare da vicino le gesta dei campioni d'Italia. I biancorossi hanno riservato all'ennesimo tutto esaurito del Fonte Scodella di Macerata una cucina lube bancamarche di nuovo vincente. La squadra di Mister Giuliani infatti ha continuato ad essere perseguitato dalla sfortuna. Ancora out cover per il risentimento al ginocchio, assente anche Codraccianin e fermato da un'infiammazione alla spalla sinistra. Ma stavolta i biancorossi hanno sfoderato le armi giuste per chiudere in cassaforte la gara 3 dei quarti di finale della Lincoln Cup, portandosi in vantaggio per 2-1 sulla Dina, battuta alla fine 3-0. Ascoltiamo le dichiarazioni rilasciate nel post partita da Mister Alberto Giuliani e dal giocatore Simone Parodi. Simone Parodi, una reazione di grande carattere da parte della squadra stasera perché non è stata una partita facile, assolutamente la Dina è un ottimo avversario. Guarda, hai centrato la parola chiave di stasera, secondo me abbiamo tirato fuori carattere.